Escono bene dalle corsie interne, leggermente stretto Davide Cattaneo, vanno via i due atleti del bici mani agarlate, Tania Rone, Sprafico, attenzione, Navella Bagar, all'interno c'è anche Cattaneo, e in seconda, terza posizione in questo momento, la tabella numero 129 al comando, la 179 Tania Rone, e col 185 Alex Ginardi, ma c'è Cattaneo, Cattaneo Ralle, del caravaggio. che si infine in seconda posizione, ancora due le posizioni disponibili per entrare in finale A, se ne vanno a prendere il caravaggio di Bici Mania, e se ne prendono i due rider di Bici Mania.